in primo piano la tua reazione a questo pezzo sta a farlo sta a farlo no comment no comment frano proprio quello che ti dicevo prima no pop shit per favore siamo partiti da rapper facciamo i rapper c'è tutto proprio a te l'idea che il rapper poi possa anche ma ci sta fai tutti i pezzi che vuoi così però comunque ricordati da dove viene un certo punto se prendi quella visibilità non fare solo quella roba ha il potere di poter veramente portare questa roba in altro perché ti metti a fare questa roba creiamo una vera e propria comunità rap hip hop una cultura hip hop in italia drill rap trap che veramente va avanti col tempo perché devi arrivare in altro e poi switchare in questo modo sembra quasi inevitabile in italia non che uno arriva al top e poi deve preferisco fare il disco come il mio essere criticato alla fine per far capire che l'italia almeno c'è sulla sulla mappa certo capisci che fare queste cose onesto poi tutto il rispetto per l'artista ti ripeto però io musicalmente parlando e per la mia visione la vedo così la vedo in questo modo è il potere di poter portare questa cultura e questo mood in alto perché non lo fai ti metto a fare altro perché devi fare i soldi i soldi li stai facendo li hai fatti